Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente bassa sul Mediterraneo e sull'Italia e quindi ancora atmosfera particolarmente instabile. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese e vedete che un po' di nuvole ancora si faranno vedere da nord a sud proprio, però nuvolosità alternata anche a delle parziali scritte per quello dico che variabilità sarà davvero la parola d'ordine. Precipitazioni che torneranno a interessare soprattutto il centro-sud non tanto al mattino quanto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Si formeranno nuovi acquazioni e forse anche qualche temporale al nord a situazione un po' più tranquilla quindi in definitiva ci attendono un'idea ancora molto variabile e instabile diciamo soprattutto al centro-sud in particolare nelle regioni meridionali dove la probabilità di pioggia sarà più alta e nelle zone interne dell'Italia centrale ma con locali sconfinamenti anche verso le aree costiere. Meglio come vi dicevo al nord anche se qualche pievasco a ridosso delle zone montose sarà ancora possibile, al nord tra l'altro le temperature cominciano a guadagnare qualche grado. Per tutti i tagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.